Questo è il calamolo che facciamo per salire su, il pizzo in bianco, Marco, Filippo, la demo di Filippo di cui non mi ricordo il nome, Jacopo. Questo sono per l'estate, questa è la caratteristica giusta. Grazie a tutti! Ciao! Io posso fare il tavolo con il padre. c'è un po' di fadiga 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 c'è un po' di fadiga